Amore, sai cosa ho sognato? Cosa? Che mi regalavi una collana di perle. Una collana di perle? Sì. Amore, alla tua età credi ancora ai sogni? Chi ci trovai? Chi hai detto? Niente. Keen of the corn. Chi hai detto? Niente. Buona! Oh, bravo! Allora, un momento, turist. Un momento di cultura. Allora, tu gli è? Allora, Italia? Sì. Ah, italiani? Allora, posso parlare in italiano. Allora, niente. Qui, come vedete, in questo posto, fu proprio il... L'anno non tanto mi ricordo, però, la persona è lui, sicuro. Il re Catacollon IV, che diede ordine, pensate un po', questo aveva un carattere particolare, diede ordine di costruire un famoso castello. Proprio qui, sì. Castello. Castello, castello. Sì. Castello. Castello. È d'accordo. Scusa, è dove lo vedi il castello? Prego. A dove sta il castello? Il castello. Cioè, lui gli ha detto ordine di costruire, però nessuno gli ha dato rette, e allora poi è rimasto là cibo. Anche per il canale. Fai la fotografia. Stai scattando, stai scattando. È l'ordine della persona. No, no, è carino, è carino. Beh, andiamo avanti, un altro po' di cultura. Sì, ma lì, c'è.